Musica Buonasera e benvenuti in questo nuovo Valemass Buona vigilia di Natale a tutti amici Finalmente 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 è arrivato questo 24 dicembre Che da tantissimo aspettavo perché appunto io aspetto molto più il 24 che il 25 perché festeggio il 24 principalmente E finalmente anche quest'anno è arrivato e sono felice di aver condiviso con voi tutta l'attesa a questo giorno Perché è stato veramente molto bello, molto magico ed emozionante Però ora si inizia con i video quelli proprio super elaborati Quindi se avete qualche idea per dei video che vorreste vedere, qualsiasi Fatemi sapere nei commenti che prendo in considerazione E in questi giorni sto pianificando tutti i prossimi video perché quest'anno voglio essere super organizzata Però oggi non parliamo di 2020 Parliamo di oggi che è un giorno importante perché è il 24 ed è la vigilia di Natale Mi sono svegliata letteralmente da un minuto e penso si possa capire dalla voce che vi giuro Cioè sembro tipo Maria De Filippi Allora Maria apri la busta perché qua vogliamo scoprire il resgondo della giornata Cioè vi giuro ho tipo una voce E poi gli occhi sono gonfi peggio di due canotti perché appunto mi sono svegliata da letteralmente un minuto Sembro veramente uno zombie però so che mi accetterete anche così Volevo subito iniziare a parlare con voi perché sono stragasata Ora vado a farmi la doccia Poi mi devo preparare tutto quanto Mi piastro i capelli Mi faccio tutta quanta Poi devo finire di impacchettare i legali perché ne ho ancora un po' E poi aiutare mia mamma a preparare tutte le cose per oggi perché appunto ci sarà il cenone Quindi devo preparare tutti quanti gli antipasti Tutte le salse per la fondue chinoise Insomma faremo anche la cheesecake che è il mio dolce preferito in assoluto Quindi sono stracontenta E quindi oggi di cose da fare ce ne sono Il vlog sarà molto carico e non vedo l'ora di portarvi con me in questa magnifica giornata Quindi si inizia con la doccia Ok amici è ora di pranzo Io questa mattina mi sono preparata Doccia tutto quanto Make up alla Valeria Ferragni Anche se sinceramente non mi piaccio con l'eyeliner Cioè non so tanto bene Però non lo so Avevo voglia di farlo E ho notato che anche l'anno scorso esattamente Questo giorno Il 24 dicembre dell'anno scorso Avevo l'eyeliner E io non lo faccio mai Quindi è una strana coincidenza Comunque qua c'è Truci Il mio gattone Oddio ma tipo ho morso la testa Ah oh C'è il mio gatto che dorme E ora pranzeremo E poi devo finire di impacchettare i regali E tutto quanto Buon pranzo a tutti Qua abbiamo polletto e couscous Ma soprattutto Buona vigilia mamma Buona vigilia Buona vigilia Che entusiasmo Pilli buona vigilia E auguri Eeeh Io ho da notare Che sono tutta presa bene E loro Buona vigilia Raga Ora faremo la cheesecake Che è tipo il mio dolce preferito Quindi sono stra felice Ed è la prima volta che la facciamo Vero mamma Quindi Chissà Se uscirà un pastrugno Se uscirà bene Metterò in gioco le mie doti Da master chef Però prima Ho una battuta pessima Da proporre al mondo Allora l'altro giorno Ho visto un ragazzo Che mi ha detto Guarda Io ero fidanzato Con una ragazza Che lavorava l'oro Ci siamo lasciati da poco Un'ora fa Un'ora fa Hai capito? No Un'ora fa Che lavora l'oro Ora fa Questa era bella Complicata ma bella Comunque l'albero Si sta riempiendo di regali Dopo devo aggiungere anche i miei E niente Viva il Natale Amici cheesecake Rimandata più tardi Perché c'è Il mio miciolone Che non sta bene Quindi Lo portiamo dal veterinario Comunque ripensandoci Questo è il terzo Natale Che passiamo insieme E a pensarci solo Mi emoziono Perché Sono già tre anni Che la nostra famiglia esiste E È solo l'inizio questo Ci aspettano un sacco Di cose fantastiche E vi ringrazio Per essere costantemente Parte della mia vita Per supportarmi sempre Perché Se avete letto come stai Potete capire un po' Quello che ho passato io Ho passato un periodo In cui mi sentivo veramente Tipo persa Sola E Siete arrivati voi Che siete stati Il mio Alex Come Alex per gioia Insomma E mi avete letteralmente Stravolto la vita Mi avete Insegnato A credere in me stessa A credere nei miei sogni A non abbattermi Davanti alle difficoltà E quindi Vi ringrazio Siete veramente La mia forza E Vi voglio un bene Che non potete neanche immaginare So che ve lo dico spesso Però Voglio sempre ricordarvelo Perché Senza di voi Non so cosa farei Non so dove sarei E Amatevi sempre Anche voi Credete sempre Nei vostri sogni Nei vostri obiettivi Perché Ne avete avuto la prova Con la mia esperienza Se ci credete veramente Se non mollate mai Di fronte alle ostacole Le difficoltà Otterrete Tutto Ciò che sognate E niente Vi voglio tanto bene Io Voi Contro Tutto e tutti E sappiate che Per qualsiasi cosa Se avete bisogno Io ci sono Soprattutto In questo periodo Che è il Natale Che deve essere un periodo Felice Spensierato per tutti E Se Non lo state passando bene Se avete problemi Con qualsiasi cosa Sapete che io ci sono Sempre E con ci sono Intendo che voglio proprio Essere vostra amica Non voglio essere la classica influencer Che guardate così Dite wow Che figona Cioè io voglio proprio Mostrarmi Per come sono Per farvi capire Che ognuno di noi È bello così com'è E soprattutto Voglio avere un rapporto Vero e sincero Con voi E Non vedo l'ora Di passare questo 2020 Insieme Perché Ci aspettano un sacco di belle cose Io sono carichissima E ho un sacco di nuovi progetti E vi amo tanto tanto Ricambio di programma Di nuovo Micio lo porteremo Dal veterinario Più tardi E quindi ora Cheesecake Tattica Direttamente Dalle cucine Di Masterchef Italia Ecco a voi Valeria Cracco Allora Come prima cosa La procedura numero uno È splaccicare I biscotti Ok Biscotti Triturati Alla perfezione E ora Andiamo ad unire Il burro fuso Yes Signori e signori Il composto È stato messo Nella nostra teglia Che ora Andrà a riposare In frigo Ok Allora Next step È mettere la fila delfia La pila del pia Con La panna montata E Lo zucchero Mamma So babbo natale Ok Allora Sta già andando via il sole Che cosa triste Però noi siamo ancora operativi Stiamo facendo Il nostro cheesecake E vado ad unire La colla di pesce Cioè la gelatina E il limone Che ho mischiato insieme Alla nostra crema Che poi andremo a mettere Sui biscotti Yeah Sono brava Per ora Valeria Cracco Sta facendo giudizio Sì Non cantiamo troppo Non cantiamo vittoria Troppo presto Però per ora direi Voto 10 E voilà Ora mi cade Faccio un fail No E voilà La nostra cheesecake È quasi pronta Ora dobbiamo metterla in frigo Per un paio di ore E poi sopra ci metteremo Tutta la cremina Marmellatosa E i lamponi Ok amici Sono quasi le 4 Io sto preparando il post Per questa sera Che è questo qui Queste due foto Molto molto belle Una E due E ho avuto una super idea Anche per il post di domani Io intanto faccio contorsionismo Perché voglio fare qualcosa di diverso E come penso già sappiate Io amo scrivere Non lo dico così a caso Perché ho scritto un libro Allora devo essere coerente Quindi dico che amo scrivere Amo veramente scrivere Quindi mi è venuta Uno schiccio di creatività E mi sono messa a scrivere una poesia di Natale Che domani pubblicherò su Instagram Insieme ad un video insomma E la metterò anche nel Valemas di domani Quindi mi raccomando Guardate il Valemas di domani Non fare lo scorfano brontolone Che bella Dori di Nemo Comunque raga Io sono innamorata degli alpaca Cioè Vogliamo parlare di quanto sono belli? Guardate Sono così carini Io voglio un'alpaca Ho trovato un obiettivo nella mia vita Altro che diventare Impacchettatrice di regali Altro che diventare Attrice Presentatrice Voglio un'alpaca Voglio abbracciare un'alpaca Guardate che bello E niente Ora devo mettere in ordine la stanza Perché è un disordine unico Impacchetto gli ultimi regali E poi si inizia a prepararci Per il cenone Comunque suor Valeria È qui a pregare Per tutte le persone Che dovranno sorbirsi I cenoni E i pranzi di Natale Infiniti Con la famiglia Di 200 portate E quando state esplodendo Arriva ancora la nonna Ehi ma la vuoi la torta? Poi dite No mi spiace sono piena E te la ficcano in bocca Col cucchiaio Perché non puoi Non provare il dolce della nonna Sono soffende Quindi Sei lì tipo Buono E vorresti solo dormire Per i prossimi tre anni Andare in letargo Quindi prego per voi Ma soprattutto La mia preghiera più grande Va a tutti coloro Che dovranno affrontare La fatidica domanda Ma Ma il fidanzatino Non ce l'hai? È sempre un trauma Io ho risolto Diventando suora Quindi Aspetto anche voi Tutti quanti In convento Ma anziché dire Che peccato Non sei fidanzata Dovrebbero dire Cavolo Sei salva Brava Perché con tutti i casi umani Che ci sono in giro Non essere fidanzati È quasi un bene E quindi niente Suor Valeria Vi aspetta Raga ma perché esistono le cimici Anche a Natale? Cioè Perché Questi esseri spreggevoli Vorrei un'alpaca piuttosto Comunque Io ormai sono fissata con gli alpaca Comunque noi stiamo Fissando Stiamo Incartando i regali Ce la posso fare E lì c'è Micio Che appena stato dal veterinario Aveva tipo un'infezione all'orecchio Ora Prenderà tutte le medicine Gli antibiotici Quindi Starà di nuovo meglio E niente Io ho appena impacchettato questo qua Per mio fratello E ho ancora un bel po' di regali Missione Folletto di Babbo Natale Riuscita Sto trasferendo Tutti i regali impacchettati Sotto l'albero Che si sta iniziando A riempire Guardate qua Tutti i pacchettini Adoro Noi siamo in fase Preparazione di antipasti Abbiamo fatto tutti i tramezzini Col salmone Il prosciutto Tutto quanto Ed ora è arrivato il momento Di farcire La fine della nostra cheesecake Che è venuta stra bene Sono molto fiera del risultato Perché appunto Era la prima volta Che la facevamo E devo tipo spalmarci sopra Questa crema Qui che abbiamo fatto Con il succo d'arancia E un po' di zucchero E la fecola di patate Insomma E niente Speriamo che esca bene Raga basta Basta Maria io esco Sto scoprendo troppi talenti In questi giorni Tra il twerk Delle sopracciglia E del naso Tra l'impacchettatrice di regali Ora ho scoperto anche che Posso diventare una pasticcera Provetta Guardate qua Che bella La nostra cheesecake Pure con la spatolina Professionale Adoro Non vedo l'ora Di provarla E il tocco finale È il decoro Con i lamponi Tutti sulla nostra Bellissima cheesecake Siamo al completo Sono arrivati tutti Sara Marco Giorgia Luca Ora mangeremo La fondue chinoise Intanto qua l'albero Si è riempito E niente Quindi buon appetito Mia sorella E mio fratello La ragazza E mio fratello E il ragazzo E mia sorella Sono andati a casa E quindi Anche questa vigilia È praticamente terminata Cosa ne dici? Soddisfatto dei tuoi regali Ora io vi mostro i miei Sono molto molto carini E niente Ci siamo mangiati Tutta la fondue chinoise E la cheesecake Di com'era? Buonissima Delisius 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 E quindi Scorpacciata fatta Ed ora vi faccio vedere Quello che ho ricevuto Trucci sta meglio Trucci sta meglio Quindi siamo tutti più felici Ok Iniziamo con i regali Fatti da mio papà E mi ha regalato Una busta Con qualche soldino E Dio benedica I parenti Che ti regalano soldi Al posto che regalarti Le calze Antiscivolo Classiche Imbarazzanti Tipo della pimpa A 17 anni Quindi sì Qualche soldino Che userò Per comprarmi Qualcosina E poi anche Degli oggetti Di bellezza E mi ha dato appunto Questa crema qui Idratante Delle salviettine struccanti Questa pochettina Questa pochettina qui Molto bella Azzurra E questo gel Detergente Rinfrescante Da mia sorella E dal suo ragazzo Ho ricevuto Questo porta custodia Delle airpods Con un unicorno Molto molto carino E poi anche Questo filo Con le lucine Lungo 10 metri Quindi posso veramente Tappezzarci Tutta la stanza E niente Lo userò sicuramente Per decorare La mia nuova camera Da mio fratello E dalla sua ragazza Invece ho ricevuto Questo profumo qui Che è il mio preferito In assoluto Il mio profumo del cuore E dovete sapere Che io non cambio mai profumi Cioè Ho preso per la prima volta Nella mia vita Questo profumo Non l'ho mai cambiato Perché la trovo una cosa Molto molto personale E da subito Mi è piaciuto tantissimo Quindi Non lo cambierò mai Penso Almeno Non ho intenzione di farlo Prossimamente Quindi è super utile Lo uso tantissimo E appunto È questo qui Ed infine Per concludere Con il botto Ho ricevuto Il regalo Che desideravo Di più Per questo Natale Da parte di mia mamma Che è questa piastra Qui per fare i boccoli Perché Io non sono capace A farli con la piastra normale Tutti sono capaci Nel mondo Ogni persona Mi diceva Sì è facilissimo Ti basta girare Io ragazzi Provo da un anno Non ci riesco Sono impedita Sapete A truccarmi Farmi i capelli Cose E quindi Finalmente Ho ricevuto La piastra apposta E speriamo Almeno con questa Di riuscirci E niente Domani la proverò Insieme a voi Nel Valemas E tra l'altro Domani sarà L'ultimo Valemas Pilli sei triste Che domani è L'ultimo Valemas Piange E sì Un po' sono triste Diciamo perché È stato bello Condividere ogni giorno Questo magico periodo Con voi Però D'altra parte Sono contenta Perché non vedo L'ora dell'arrivo Del 2020 Perché Non so L'inizio del nuovo anno Mi Fa ripartire Con una nuova Un nuovo spirito Una nuova motivazione Ho un sacco di progetti Quindi Non vedo l'ora Mi sono messa Con il mio fantastico pigiama E ho ritrovato Una foto stupenda Di quando ero piccola Guardate che carina Era uno scricciolo E era appunto Natale Di giusto un paio Di anni fa E mi sono appena Resa conto anche Che tra esattamente 22 giorni È il mio compleanno Cioè manca pochissimo E ho 17 anni Aiuto È stranissimo Comunque il Natale Mi mette un sacco Di positività Ed allegria Perché Mi ricorda Che nonostante A volte Pensi che Va tutto male Che vorrei andasse Tutto diversamente Che Non ce la faccio più Ho una vita Bellissima E sono fortunata Perché Ho un tetto Ho una famiglia Ho degli amici E soprattutto Sono libera Quindi ho una vita Tutta per me Davanti E ogni giorno Posso decidere Di cambiarla Di fare ciò che voglio E di fare sempre Ciò che amo Ciò che mi piace Ed è il dono Più grande La vita Anche se a volte Ci sembra che Sia Ciò che ci distrugge Appena sarò in grado Di farlo Voglio fare beneficenza Perché La sola idea Di aiutare una persona Ad avere uno stile Di vita migliore A magari farla vivere Anziché per strada Sotto un tetto Con un pasto caldo Mi scalda il cuore Perché io se risparmio 200 euro Dallo shopping Dallo uscire A cena E così A me non cambia nulla Anzi il mio armadio È più leggero E è un bene per me Mentre Un'altra persona Con 200 euro Magari ci vive E si migliora realmente La giornata La settimana E quindi Voglio cercare Di apprezzare sempre di più Le piccole cose I piccoli gesti Non i regali materiali Ma proprio I piccoli gesti D'amore Ed invito anche voi A farlo Mentre se invece State passando Un brutto periodo Se non siete felici State male Siete soli Non mollate mai Perché abbiamo Tutta la vita davanti Siamo giovani Abbiamo un sacco Di anni da vivere E però siamo proprio noi A scegliere come viverli E per cambiare le cose Che non vi vanno bene Non serve a nulla Piangerci sopra Dovete rimboccarvi le maniche E lottare Non sarà facile Vi farà stare molto male Perché le difficoltà Sono sempre Molto molto distruttive Per ognuno di noi E arriviamo ad un punto In cui diciamo Meglio lasciare perdere Ed è proprio in quel punto Che dovete Continuare a lottare E mai mollare Perché avrete La vostra rivincita E ne uscirete Più forti che mai Quindi se state passando Un brutto periodo Forza Io sono con voi E vi auguro Un buon Natale Poi questo Natale È stato particolarmente bello Perché essendomi trasferita A Milano Vedevo molto molto raramente I miei fratelli E i loro ragazzi Insomma Quindi era da tantissimo Che non passavamo un momento Tutti insieme Ed è stato bello Riunirsi Ho ballato pure i balli Di gruppo estivi Con mia sorella Quello tipo Bomba Un movimento Muy sexy sexy E una mano alla cabeza E una mano La cintura E niente Quindi mi sono divertita Molto Ok amici Sono pronte per andare A dormire Io vi saluto Vi mando un bacissimo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Iscrivetevi al canale Se no Vi lancio Cosa posso lanciarvi oggi Che non ho qua l'unicorno Vi lancio di nuovo Il flauto Sbavuciato a casa E niente Buon Natale a tutti Perché oggi che vedete il video È Natale Quindi buon Natale Vi aspetto domani Per l'ultimo Valemas Vi voglio tanto bene Passate questa giornata al meglio Con le persone che amate E niente Vi mando un bacione Mua